Il motivo per cui abbiamo scelto Eber Pagani per chiudere questi cinque giorni di eventi è perché ci sono tre parole chiave che sono legate al cantautore. Che sono terra, generazione e migrazione. Dunque Pagani si collega ai tre concetti esposti prima a Labide che sono terra, generazione e migrazione. Perché? Perché Pagani venne dalla Libia, nacque nel 1944, un giorno già importantissimo, il 25 aprile, il giorno della liberazione, cioè questo giorno è carico di significato, e rese omaggio alle sue radici ebraiche per tutta la sua carriera. Quindi terra nel senso di Pagani come terra di Israele e come ricerca di una patria. Si è rullato l'infanzo. One, two, three, one, two, three. Io ora parto nel verbo a ore, parto sul caffè a chi fa l'amore, l'anno subito e giù un coppia tutto uguale, non le vedo più manco con gli occhiali. Ma sono rimasto come un credito, aprendo la porta in quel grigio mappino sereno. E mi ricordo di fatti che ero innamorato di una ragazzina e un giorno la vidi con gli occhiali e rimasi scioccato, poi continuai ad amarla naturalmente, però per vederla in quel modo lì e subì quasi un piccolo trauma. Ecco, negli anni 70 la canzone si chiama Cin Cinco, gli occhiali, con questa canzone Herbert non venne censurato in Rai ma pensi raggiunsi in primo posto nelle classifiche. A me interessa che si sentano le parole perché Herbert si esprimeva molto con le parole più con la musica. One, two, three, four. Ragazzina che sei, tu che arrivi e le sei, che ti siedi davanti al tramonto e perché vieni qui sola, sola così e ti fermi mezz'ora soltanto. Cin Cin dai, noi siamo speciali, portiamo gli occhiali, dai vieni con noi. Cin Cin dai, il mondo è di tutti, le baglie dai brutti e il nostro se vuoi. Cin Cin stagini, ritorno, ritorno, cin stagini per giungire a te. Cin Cin dai, noi siamo speciali, cin stagini per giungire a te. Cin Cin dai, noi siamo speciali, cin stagini per giungire a te. Cin Cin dai, noi siamo speciali, cin stagini per giungire a te. Cin Cin dai, noi siamo speciali, cin stagini per giungire a te. Cin Cin dai, noi siamo speciali, cin stagini per giungire a te. Grazie.